E' importante in cui bisogna unirsi insieme per riconoscere che per la prima volta sono stati fatti i funerali di Stato, è stata fatta una cerimonia ufficiale e lo Stato riconosce appunto in una cerimonia ufficiale persone che sono nati altrove e che non hanno la nazionale italiana. Credo che questo sia il messaggio molto forte, ma soprattutto perché diverse confessioni religiose si sono messe insieme anche per fare questa funzione con calma, senza nessuna violenza e credo che la pace e la non violenza prevalgono con qualunque cosa oggi. Però Ministro, oggi ieri tre che sono sopravvissuti a Lampedusa e sono ancora lì hanno protestato perché non sono stati portati qua. Perché non sono venuti? Perché non li avete portati qua? Dovremmo vedere il messaggio importante che per la prima volta lo Stato oggi ha fatto una cerimonia che cambia tutto, un cambiamento culturale che sicuramente va accompagnato col tempo, ma credo che il messaggio importante sia appunto questo. Grazie, grazie.